Papi, vogliamo fare l'annuncio? Oh, è vero! Oh, ciao ragazzi! Siamo qui, siamo tornati. Allora, no, 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 niente, solo per un breve annuncio, perché come sapete non tutti guardano Facebook e allora guardando solo YouTube c'è un sospetto che magari qualcuno guardando solo YouTube non sappia e non si è informato su alcune cose. Niente, siamo arrivati a 100 iscritti, siamo arrivati a 100 iscritti, non è un traguardone, non è niente di speciale, però per noi che pensavamo, cioè almeno io dicevo, se facciamo 20 iscritti è anche tanto, noi a vedere che siamo arrivati a 100 per noi è un bello obiettivo, ma bello grande. Anzi, niente, siamo felici di questo, siamo felicissimi, allora abbiamo pensato di fare una live, una live di un'oretta, il 2 di agosto. E il 2 di agosto, come si dice quando due sono, cioè quando si lavori insieme? Collaborazione. Ecco, visto la collaborazione che c'è stata tra me, Project e PES in questo periodo, abbiamo pensato bene di chiamarli come ospiti nella nostra live. Quindi, quel giorno ci sarà anche Tony Purchish, che è stato Tony Purchish Italia, che mi aveva invitato alla sua live e poi comunque è un buon amico, abbiamo giocato anche insieme. Quindi, aspettatevi molto probabilmente un BM alla riscossa, non si sa, dipende dall'umore che ha, Danny, questo lo sappiamo. Sicuramente ci sarà un ciappoban in diretta e poi comunque ci saranno alcuni argomenti di cui parlare. Si parlerà di come è nato il nostro canale. E di che cosa faremo in futuro. Si, parleremo di come è nato il nostro canale, come il perché, più che altro. In un'ora, un'ora e mezzo, si parla di tante cose, quindi si parlerà sicuramente anche di quello. E poi si parlerà anche di quello che faremo in futuro. Perché comunque abbiamo qualche progetto, fino a, insomma, qualche mese, qualche progetto lo abbiamo. Poi dopo, non si sa, tutto dipende da quello che esce da queste due teste. Di cazzo. Cioè, voglio dire, aia, quel giorno più gente c'è, meglio è. Così, se avete da farci qualche domanda, se avete qualche cosa da chiedere, noi risponderemo tutto, non abbiamo niente da nascondere. Anzi, e se invece non avete da domandare un cazzo, comunque sarà una bella giornata lo stesso, perché qualche cazzata si spara sempre in compagnia. Ok? Detto questo, batti un 5. Entro domani però, eh. Cioè, questo è un 5, un 5 di merda. Fatti il 5 sta. Dove il 5? No! Non mi devo farci due. Va bene, vi aspettiamo il 2 di agosto. Ciao ragazzi! Buona! Attesa. Buona attesa. Ho il figlio impazzito. 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 Grazie a tutti.